Luigi Nardi, Scuola del Cerchio, Firenze 77, Il Cosmo, la Materia, l'Evoluzione, 6 dicembre 1960. A cura di Luigi Nardi. La scienza definisce energia, ciò che attraverso ad un agente intermediario, o una trasformazione o una macchina, può produrre un lavoro. Per noi energia pura è materia del piano astrale, ovvero ciò che si ottiene per disintegrazione della più sottile materia fisica. Voi sapete che ogni piano d'esistenza differisce dagli altri non per una diversa ubicazione nell'universo, ma per la diversa natura della materia che lo costituisce. Tutti i piani esistono nello stesso spazio e ciascuno comprende sette sottigliezze o densità di materia. Ciò vuol dire che la materia di ciascun piano si può aggregare e divenire complessa in ragione di sette accostamenti, 4 e 3. Oltre sette aggregazioni si ha l'equilibrio e il generarsi di un'altra materia tutta nuova, la materia elementare di un nuovo piano d'esistenza. Le aggregazioni per ciascuna materia di ogni piano sono sette, in dipendenza di una legge fondamentale cosmica. Grazie a tutti.